Presidente, Walter Cinciripini, questa sera presentazione ufficiale della Teramo Calcio Women, vogliamo spendere delle parole importanti per questa presentazione. Per noi è una prima volta nel campionato d'eccellenza, quindi le ragazze sono tutte tranquille, si sono allenate molto bene l'anno della settimana, però questo è un anno così, senza alcun obiettivo, cerchiamo di organizzarci come società e poi vedremo per l'anno prossimo dove ci troviamo. E poi avete anche instaurato una collaborazione con la Teramo Calcio, città di Teramo. Esattamente, quindi noi auguriamo al Presidente di arrivare in Serie C prima possibile, quanto prima, noi sicuramente saremo a disposizione, perché nel momento in cui la Teramo Calcio arriverà in Serie C, sono obbligati a fare dei campionati, quindi con una filiazione, con una collaborazione, che adesso già c'è una collaborazione, quindi noi saremo a disposizione. Il Presidente è pronto, lo vediamo un po' emozionato, per lei è la prima esperienza? Sono emozionato perché questa è una storia che va avanti da quattro anni e prima eravamo San Benedettese, eravamo Teramo, oggi siamo Woman Teramo Calcio, dove io ora faccio il Presidente, quindi per me è un'emozione particolare.